Allora, salto a tutti. Presidente, Anello. Buongiorno a tutti, segretario, procediamo all'appello. Buongiorno, seduta del 3 agosto 2020, numero 705. Procedo con l'appello dei consiglieri della Sesta Commissione. Anello, presente. Usumano. Presente. Gelarda. Non c'è, assente. Scarpinato. Scarpinato presente, buongiorno. Buongiorno. Zacco, in questo momento non c'è, è assente. Quindi tre consiglieri su cinque presenti, Presidente Anello. A breve si dovrebbe collegare il Presidente Zacco. Sì, benissimo. Allora, apriamo la seduta. Oggi che abbiamo in programma, segretario? Oggi non abbiamo nulla in programma. Domani abbiamo il Dottore Tariaga, programmazione COIME, programmazione dell'attività COIME per il 2020. E' mercoledì 5 abbiamo pian piano Catania e gli uffici insieme ai ristoratori per... Mercoledì abbiamo l'assessore Catania. Io ho mandato l'invito, ma non abbiamo avuto ancora nessuna conferma. Verifichiamo la conferma, verifichiamo la conferma. Sì, sì, no, questo lo faremo entro oggi. Benissimo. Allora, ci sono consiglieri che devono fare comunicazioni? Consigliere Scarpinato, avete comunicazioni da fare? Presidente, se lei mi permette prima di procedere con i lavori, mi piacerebbe intanto sostanzialmente fare un paio di comunicazioni che possono essere utili, ovviamente per dare un contributo in commissione e programmare i lavori. Consigliere Scarpinato, non è a facoltà. Può intervenire. Grazie, grazie Presidente. Allora, io intanto volevo subito focalizzare l'attenzione della commissione su un punto importante. Noi abbiamo, come ormai è consuetudine, abbiamo attuato e convocato perennemente un tavolo con le associazioni di categoria dei ristoratori. Ecco, questo tavolo è stato finalizzato ovviamente al rilancio delle attività produttive, abbiamo creato un dialogo finalizzato proprio a snellire le procedure, dare voce ai commercianti e ai ristoratori e soprattutto cercare di migliorare e dare una mano a un settore che è in ginocchio tenuto conto gli esiti della pandemia. Nel contempo ricordo bene che il Consiglio Comunale si era dato una scadenza finalizzata a dare una mano ovviamente ai ristoratori, ma a tutto il tessuto sociale afferente alle attività produttive rispetto ai tributi. Abbiamo fatto un grandissimo lavoro, questa commissione ha fatto un percorso finalizzato al suolo pubblico, concessione di suolo pubblico, il raddoppio del suolo pubblico. Dall'altra parte la commissione, la prima commissione bilancio... L'abbiamo persa, consigliere. Ecco, mi sentite? Provi, provi. Stavo dicendo, dall'altra parte, la prima commissione si è dato un percorso rispetto alla situazione tributi e quindi spostamento così come è previsto dalla normativa e dalle norme che arrivano dal governo nazionale. Mi sentite? Mi sentite sì o no? Sì, sì. Dicevo, la prima commissione invece si è impegnata... La interrompo solo un secondo, che è entrato il Presidente Zacco così do definitivamente la conduzione dei lavori al Presidente. Presidente, buongiorno. Presidente, buongiorno. Siamo sulle comunicazioni e sta parlando il Consigliere Scarpinato, non abbiamo ancora iniziato. Grazie. Prego, Consigliere Scarpinato. Sì, buongiorno Presidente. Io, sostanzialmente, per fare un attimino il sunto di quello che avevo detto, avevo cominciato l'intervento dicendo che questa commissione, così come ben noto, ha convocato e programmato ormai in via permanente un tavolo di confronto con i ristoratori. Avevo fatto una ricostruzione del percorso che è stato compiuto ovviamente dalla commissione, mi stavo sto fermando sulla parte relativa alla prima commissione e quindi tributi, norme che discendevano dal governo nazionale, ma anche da quello regionale, rispetto allo spostamento, rispetto anche a una visione di insieme finalizzata ad aiutare i commercianti che vivono il momento della pandemia con grande difficoltà. Detto questo, Presidente, perché sto facendo questo intervento? Perché abbiamo letto, e siamo contenti di questo, che il sindaco di Palermo ha focalizzato l'impegno dell'amministrazione, atteso che stanno arrivando delle risorse, sono arrivate delle risorse non solo dal governo regionale, ma anche dal governo nazionale, finalizzate a che cosa? A l'abbattimento dei tributi, eccetera, eccetera, eccetera. Siccome questa commissione che ha nelle proprie corde le attività produttive, con grande slancio, spirito di sacrificio, abnegazione, si è impegnata proprio per dare ovviamente un impulso propositivo alle attività produttive, prova né del tavolo tecnico convocato con i ristoratori, ma anche le innumerevoli attività che sono state fatte da questa commissione, non ultimo, non solo le audizioni, ma quello che è stato prodotto in termini normativi, sarebbe opportuno invitare con cortese... Io non sento. E i ristoratori che saranno molto probabilmente... Ora sì, ora sì, riprenda l'ultimo pezzo. Mi sentite? Io vi sento bene. Stavo dicendo, sarebbe opportuno, tenuto conto che questa commissione venerdì si interfaccerà nuovamente col tavolo tecnico, sarebbe opportuno convocare il ragionier generale con cortese sollecitudine, al fine di farci notiziare ed entrare nel merito di quelle che sono le iniziative che l'amministrazione attiva sta ponendo in essere, ovviamente per cercare di sgravare commercianti, ristoratori, ma tutto il tessuto afferente alle attività produttive, dai tributi, non ultimo quello della Tari. Abbiamo letto con attenzione le dichiarazioni del sindaco e siamo contenti e felici perché per noi il bisogno della gente non ha colore politico, tutti insieme questa commissione ne è l'esempio, abbiamo remato in un senso che è quello dei cittadini, però prima di farci trovare impreparati, perché queste sono dinamiche che sta curando l'amministrazione attiva, sarebbe opportuno ascoltare dalla viva voce del ragionier generale quelle che sono le dinamiche e soprattutto quello che si sta ponendo in essere per dare un'informazione, ripeto, certa, sicura e documentata ai ristoratori che venerdì avremo in commissione. La prego di convocare il ragioniere prima di venerdì, così almeno avremo, oltre alle giuste comunicazioni e soprattutto quello che facciamo settinalmente con i ristoratori, avremo delle notizie importanti perché oggi non pagare un tributo in un momento così delicato per questi commercianti diventa fondamentale, soprattutto perché il governo nazionale o quello regionale stanno finalmente, dico io finalmente, tendendo una mano a favore di queste categorie. Inoltre, Presidente, e poi mi taccio, sarebbe opportuno, tenuto conto che questa commissione già si era addettata delle tempistiche riferite ovviamente alle società partecipate, convocare per capire quella che è la situazione contingente il Presidente dell'Amas, perché ritengo che sia venuto il momento di pungolare l'amministrazione attiva ovviamente sotto l'aspetto del contratto di servizio e soprattutto andare a vedere quello che è lo stato contingente di questa azienda che è in forte perdita, che ha nelle proprie corde ovviamente in questo momento una ristrutturazione tenuto conto del fabbisogno del personale, ha un piano di risanamento che non è stato posto in essere e quindi siccome noi non possiamo sottrarci da quello che è il confronto o anche il dialogo o l'ascolto in questo caso con le società partecipate, atteso che abbiamo la programmazione, ritengo che sia di fondamentale importanza udire i vertici dell'Amas per poi avere un confronto con l'amministrazione attiva. Grazie Presidente. Grazie Consigliere Scarpinato. Dottore Palazzolo, diamo seguito alle richieste del Consigliere. Ci sono altri interventi? Consigliere Cusumano, prego. No, 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 Presidente, no, semplicemente per salutarla che non la sento da un poco e quindi assolutamente no, mi affido a lei, grazie. Perfetto, grazie. Vicepresidente Anello, prego. Grazie. 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 E' collegato Anello? Sì, io lo vedo, è collegato, ma il microfono è staccato. E avrà problemi di linea sicuramente. Allora, nel frattempo possiamo organizzare i lavori di questo mese, dottore Palazzolo. Sì, ho visto l'elenco. Riepiloghiamo le audizioni così le condividiamo con tutti i consiglieri, se può dare lettura. Sì, un attimo che prendo la mail. Ho chiesto a un segretario di organizzare queste audizioni, ora darà lettura in modo che le condividiamo. Allora, dirigente Coime ed è già stato programmato per domani, direttore generale e presidente RAP per il monitoraggio e la raccolta di essere... Come? Diamo pure la motivazione all'incontro. Ah sì, sì, dirigente Coime per conoscere la programmazione degli interventi previsti nel 2020 ed è stato convocato per domani. Dirigente generale e presidente RAP per il monitoraggio della raccolta differenziata dell'attività commerciale della città. Probabilmente lo faremo lunedì prossimo, anche perché giovedì dovremmo convocare il ragioniere generale, così come chiesto dal consigliere Scarpinato, se per lei va bene, presidente. Presidente? Prego, prego, continui. Poi, dirigente Settore Verde per conoscere la programmazione degli interventi previsti per il 2020. Dopodiché, comandante della Polizia Municipale per contrastare l'abusivismo presente nelle aree pedonali e località balneari. Poi abbiamo dirigente SUAP per Confimpresa Palermo per Mercatino Rionale di Via di Vittorio. Suap per Regolamento Mercatino e Botteghe Storiche, dirigente e Assessore per la programmazione dei fondi Cipe del Centro Storico. Sopralluogo Velodromo e Palazzetto dello Sport per conoscere lo stato d'avanzamento degli interventi programmati. Più queste due richieste del consigliere Scarpinato, quindi presidente AMAT per problemi piano industriale e piano di risanamento, e poi il ragioniere generale per il contratto di servizio, è piano di risanamento, giusto? Poi il ragioniere generale abbiamo detto che probabilmente convocheremo giovedì, problemi attributi ristoratori. Questo è il punto. Il consigliere è uscito? Chi è che è uscito? Si sarà disconnesso Zacco, non so che è successo, avrà ricevuto qualche telefonato, probabilmente si è staccato. Allora, segretario, una gentilezza le voglio chiedere. In tutte le convocazioni che ovviamente la Commissione farà, quindi verso i dirigenti, i coime, ma anche ho sentito il rap, mettiamo come ultima voce varie ed eventuali, perché atteso che noi abbiamo la programmazione, è importante approfittare anche degli intervenuti in audizione per poi porre qualche domanda afferente, ovviamente la programmazione. perché spesso e volentieri, e voi sapete perché siete stati sempre qui con noi in Commissione, i Presidenti dice no, mi ero preparato solamente, i Presidenti piuttosto che i dirigenti, perdonatemi, mi ero preparato solamente sul tema. Mettendo la voce e la casistica varie ed eventuali, noi riusciamo anche ad avere delle notizie importanti in termini programmatici e poter proseguire con i lavori, in maniera spedita con i lavori della Commissione. Perché la programmazione che diventa la base di ogni azione politica, spesso e volentieri viene disattesa e dall'altra parte, noi dobbiamo invece essere in eccepibili, così come lo siamo sempre stati, perché anzi colgo l'occasione per ringraziare lei e tutti i componenti della Commissione, che sempre in maniera puntuale hanno collaborato e contribuito a far crescere la Commissione in termini lavorativi, ma dare un contributo anche alla nostra città. Perché grazie a voi, grazie a voi che siete la colonna portante di questa Commissione, riusciamo ad audire le persone, ma procedere nei lavori programmati. Grazie, grazie a tutto il personale. Dicevo, aggiungiamo questa voce, varie ed eventuali, così riusciamo sempre a lasciare la finestrella aperta e ai sensi di quanto è previsto dalla normativa abbiamo anche un ordine di lavori stabilito e nessuno si può sottrarre alle varie domande legittime che arrivano dai componenti della Commissione. Consigliere Scarpinato, però mettendo varie ed eventuali è come non mettere niente, perché varie ed eventuali significa tutto e significa niente. Però ce l'abbiamo normato ed è scritta e quindi non si può sottrarre nessuno. Mi ero solamente preparata al tema che oggi stiamo trattando. Perché faccio un esempio, se adesso convocheremo il Presidente della RAP per l'andamento rispetto alla differenziata del centro storico o del centro città, se io ho intenzione di capire quello che sono in questo momento le criticità, lo stato dell'arte rispetto al fabbisogno del personale o le varie tematiche legate ai dirigenti, perché abbiamo visto che il RAP sta bandendo alcuni bandi per dirigenti e non sappiamo quali settori, perché a me mi può servire l'avvocato piuttosto... Io voglio fare una domanda per capire le lacune, come si sta risolvendo la problematica, magari trovo qualcuno che dice sì, però sa, nella convocazione non era precisato. Invece, noi lo mettiamo, significa tutto e non significa niente, ma è previsto dalla normativa e noi siamo amanti della norma e ci atteniamo sempre a quelle che sono le norme vigenti. Procediamo in questa maniera. Ovviamente sempre... Collega Scarpinato, io non la vorrei contraddire, a me fa piacere che lei come amante ha la normativa, però mi dispiace, ma è abbastanza irrituale. Perché le convocazioni... No, 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 no. Guarda, guarda che se vai a guardare, se vai a guardare le convocazioni e tu sei uno degli anziani, c'è sempre messo vari ed eventuali. Ce l'abbiamo comunque alcune volte... Io non lo metto in dubbio, infatti le ho anche fatto la battuta... Poi ovviamente, se io sono amante della norma, pazienza, ognuno ha i propri difetti. No, no, lei è amante della norma, nel senso che è amante della burocrazia, perché è chiaro che lei da un buon rappresentante della destra italiana ama la forma ma nella sostanza però le voglio ricordare carissimo collega che non funziona così perché i funzionari e i dirigenti vengono convocati in audizione per un tema specifico. Ma non parlo solo dei funzionari io ho parlato dei presidenti ma io sto parlando tutti devono essere pronti a rispondere Giulio ma allora hai fatto pure la persona ma non c'entra questo argomento e allora non c'è bisogno di convocarli su un argomento e poi dire e ci metta omnibus è chiaro che il singolo presidente, funzionario, dirigente non può essere preparato da sostenere un'audizione addirittura per una programmazione su tutto e su tutti perché il tuttologo grazie a Dio in questo comune non l'abbiamo. Allora le audizioni si fanno sui temi specifici per avere esigenze particolari e risposte specifiche però io se voglio fare una domanda Giulio se voglio fare una domanda in quella maniera io a norma di legge sono coperto poi ovviamente è una mia proposta potete pure non concordare però lei risponde sempre a livello formale io le dico sostanzialmente se facciamo una cosa la facciamo per avere un'utilità vera, concreta per noi per esercitare il nostro ruolo per esercitare il nostro ruolo e per fare chiarezza nei confronti dei cittadini se lei mette il valide eventuale per carità lo può mettere come non lo può mettere però io sinceramente dal singolo presidente funzionario assessore non mi posso aspettare su quell'argomento non specificato per l'audizione una risposta esaudiente perché è chiaro che è tutto in evoluzione tutto cambia non sono nelle condizioni però consigliere io non metto mai limiti alla provvidenza quindi invece mi aspetto per il risultato lo sa perché lo sa perché perché anche io collega Scarpinato il mio non è un intervento per dirle di rinunciare a questa voce anzi mettiamola tranquillamente per me la possiamo usare anche per il futuro sempre e comunque per tutte le audizioni perché è chiaro che ognuno di noi al momento può approfittare della presenza di questo di quel presidente e quindi fare una domanda su questo io sono d'accordo hai colpito proprio nel segno e la possiamo mettere sempre e comunque però con la stessa correttezza le dico che sicuramente dal presidente di turno mi potrò incavolare e pretenderò e sarò esigente nell'avere risposte puntuali e precise sull'argomento specificato per l'audizione certamente non potrò pretendere la stessa perizia su un argomento sul quale ovviamente il singolo ha udito non è non è stato messo nelle condizioni di essere preparato ecco se siamo disponibili ad accettare questo poi per me l'inciso lei sa che noi siamo uomini di buon senso però è giusto è doveroso perché la forma è anche sostanza è giusto è doveroso da parte nostra interirla questo è il mio pensiero per la destra italiana sicuramente la forma è anche sostanza non nel mio caso a livello proprio politico caratteriale sociologico ma io rispetto io rispetto il suo modo di vedere le cose lei rispetta rispetti pure il mio e andiamo d'accordo conti come l'abbiamo tanto è vero tanto è vero proprio perché lo sta proponendo lei e fa quanta stima ho nei suoi confronti che le sto dicendo assolutamente mettiamo l'inciso vari ed eventuali per me anche sempre in tutte le audizioni rimanendo d'accordo e so che sto parlando intelligenti busse pauca con chi certamente non pretenderà chissà quali risposte nel merito nei confronti magari di un presidente che non è a conoscenza di un determinato argomento inteso questo noi andremo d'accordo come sempre in maniera particolare io e lei è vero siamo sempre andati d'accordo e io la voglio ringraziare ancora una volta ha dimostrato la sua correttezza la sua apertura e anche la collaborazione lo ha sempre fatto nei confronti delle proposte che arrivano da ogni singolo consigliere della commissione grazie 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 a lei grazie a lei microfono presidente il microfono presidente il microfono è staccato non abbiamo sentito mi sentite adesso la sentiamo presidente forte e chiaro e allora va bene io poco fa avevo chiesto questo intervento vicepresidente anello voleva aggiungere qualcosa prego vicepresidente anello dice il microfono staccato il telefono disattivato il microfono disattivato io purtroppo ho problemi di linea perché si attacco si attacco la cosa così mi sentite si si benissimo no no io non ho nulla da dire ho ascoltato l'intervento del consigliere scarpinato non ho non ho interventi da fare presidente pendo dalle sue labbra va bene allora a questo punto penso che possiamo chiudere i lavori della commissione io vi chiedo se lo condividete di solo una cosa solo una cosa anche prossimamente nei lavori di programmazione della commissione sarebbe opportuno continuare il lavoro rispetto al regolamento mercati storici perché è un lavoro importante che la commissione stava portando avanti e ovviamente a favore di tutte quelle dinamiche che sono afferenti la nostra città grazie infatti abbiamo già programmato tra gli incontri l'audizione con gli uffici e l'assessore per entrare nel delirio degli emendamenti a questo punto stavo dicendo chiedo se lo condividete ai colleghi che oltre a essere componenti di questa commissione sono pure capigruppo di sollecitare in aula il prelievo della delibera delle pedonalizzazioni che diciamo potrebbe aiutare le attività condizionali fino a ottobre no presidente a questo proposito allora devo intervenire se mi dice che il ragionamento sulle pedonalizzazioni io le comunico che come come gruppo come diciamo come gruppo dell'intera minoranza sicuramente faremo un un documento ufficiale probabilmente si tratterà di una mozione dove oltre che chiedere il la sospensione della ZTL visto e considerato che la scelta dell'amministrazione attiva che io ritengo scellerata è fuori luogo è fuori da da ogni da ogni logica che è da stamattina a ripreso ad essere operativa diciamo alla richiesta di sospensione della ZTL faremo anche la richiesta in aula di discussione delle pedonalizzazioni che sono in atto perché voglio capire l'assessore con quale con quale logica con quale metodo e con quale criterio ha deciso di portare avanti le pedonalizzazioni soprattutto quali pedonalizzazioni perché c'è un piano di pedonalizzazioni con una relativa tempistica vorrei capire i criteri i metodi di questa di queste pedonalizzazioni la tempistica e soprattutto è inutile girarci attorno perché continuare con le pedonalizzazioni temporanee perché non porta in aula l'assessore l'assessore competente la delibera con le pedonalizzazioni definitive e quindi magari con il PGTU da 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 aggiornare grazie per questa ragione le dico che da domani in consiglio comunale ci sarà da discutere innanzitutto di questo e poi tutto il resto io ho detto penso se non ricordo male venerdì a proposito delle pedonalizzazioni durante il tavolo tecnico che sarebbe opportuno invece trattare la mozione trattare la delibera chiaramente modificandola e invece di entrare nel dettaglio delle singole vie per evitare che ci siano alcuni imprenditori avvantaggiati rispetto a un altro di dare mandato e togliendo chiaramente tutto quello che riguarda la parte del PGTU questa delibera non ha non ha senso dare mandato all'amministrazione attiva di poter pedonalizzare fino a ottobre tutto quello che è pedonalizzabile per aiutare le attività commerciali sempre nel rispetto comunque dei residenti e questo credo però presidente questa è un'altra questa è un'altra questa è un'altra cosa presidente questa le pedonalizzazioni fino a come è questa la cosa da fare sono tutt'altra cosa rispetto alla delibera che ci arriva in aula con calma con serenità e senza l'urgenza delle scadenze dell'emergenza con calma poi iniziare a programmare quelle che possono essere le pedonalizzazioni definitive ma l'amministrazione Presidente Zacco io capisco il suo parlare però allo stesso tempo allo stesso tempo lei però ricorderà che il sottoscritto e se non sbaglio anche qualche componente del proprio del suo del suo partito non votò favorevolmente qualche mese fa perché ma anche in base alle parole pronunciate in aula se non sbaglio dal collega Forello noi abbiamo sospeso la ZTL ci vuole una volontà quasi unanime perché è legata alla pandemia cioè allo stato di emergenza voluto dal governo nazionale allora se era giusto il concetto il principio l'aspetto giuridico ognuno poi ha l'approccio che ritiene più opportuno qualche mese fa non capisco come mai dovrebbe modificarsi adesso ecco per il quale io devo dire che invece riconosco molta saggezza nelle parole del vicepresidente Anello perché invece l'argomento va affrontato perché noi non possiamo dire che dobbiamo pedonalizzare appunto velocemente in maniera provvisoria per favorire i commercianti e poi allo stesso tempo riattivare la ZTL delle due l'una cioè la matrice che ci deve dare quindi la bussola che ci deve indicare la strada è una non possiamo usare una bussola per le pedonalizzazioni e un'altra e invece ci porta a prendere una strada diametralmente opposta e riattivare la ZTL io invece su questo invito un dibattito molto serio io faccio parte del gruppo misto ne ho parlato con il capogruppo protempo recessere matteliano che spero riferirà anche in capigruppo la posizione mia e di azione perché noi continuiamo a sostenere e declino nella mia persona che qualora ci dovesse essere una mozione io non vorrei arrivare a tanto io resterò coerente non possiamo dimenticare che c'è uno stato di emergenza fino al 15 ottobre e conseguentemente dobbiamo agire tutti come abbiamo agito la maggioranza e non mi ricordo a collega Nello lei si ricorda quando fu due mesi fa io ricordo perfettamente e sto apprezzando il suo intervento perché è in linea ed è coerente con quello che sostanzialmente è già stato fatto in consiglio comunale con l'approvazione della mozione che chiaramente non indicava una data precisa indicava era legato al periodo di emergenza lo stato di emergenza ed era legato allo stato di emergenza appunto ok quindi la gemma era stato esattamente la gente ci prenderebbe per schizofrenici e abbiamo seguito un metodo e l'abbiamo ancorato a qualche mese fa io non capisco come io potrei dire al cittadino palermitano che incontro cosa è cambiato cioè se c'è uno stato di emergenza a tal punto che noi diciamo che dobbiamo pedonalizzare velocemente in maniera temporanea eccetera e allora a questo punto cambia la bussola anche per le pedonalizzazioni non è voler creare problemi però io desidero avere coerenza e quindi in questo caso la coerenza non ha né maggioranza né opposizione la coerenza rimane sempre e comunque coerenza grazie io però non sono entrato nel merito della ZTL io parlavo solo di pedonalizzazione non mi esprimo sulla ZTL perché non mi esprimo sulla ZTL perché abbiamo una riunione più tardi con il partito e quindi è giusto che aspetto la decisione che prenderemo tutti insieme quindi non non mi esprimo in questo momento però per quanto riguarda la pedonalizzazione sono d'accordo condivido il ragionamento dal consigliere Cusumano però siccome abbiamo visto durante il tavolo tecnico che purtroppo ci sono diverse pratiche che si sono arenate all'ufficio mobilità e non si capisce il motivo e che comunque una pedonalizzazione potrebbe essere una soluzione immediata per le attività per iniziare a lavorare io credo che noi abbiamo il dovere di portare avanti la pedonalizzazione laddove possibile e sempre fino ad ottobre quindi non sperimentale solo ed esclusivamente legato all'emergenza ma io sono perfettamente d'accordo con lei Presidente però non capisco perché non affrontare entrambe le problematiche e quindi la pedonalizzazione di ottobre così come la Z7 fino al 15 ottobre assolutamente come ho già detto quando abbiamo approvato la prima mozione che mi sarei messo al fianco dei commercianti per sospendere la ZTL non è cambiato nulla faremo la stessa azione faremo lo stesso tipo di percorso perché è questo quello che si deve adottare perché non si può ignorare e calpestare la volontà del Consiglio Comunale il Consiglio Comunale è stato chiaro la sospensione della ZTL è legata al periodo di emergenza e fino a quando ci sarà il periodo di emergenza la ZTL deve essere sospesa punto non ci sono altre discussioni a fare e per questo noi domani in aula faremo tutto quello che è necessario per ribadire questo concetto che sono contento che il Consiglio di Cusumano condivide perché in maniera coerente sta portando avanti anche lui la stessa diciamo la stessa linea adottata in precedenza va bene se non ci sono altri interventi Presidente Presidente ovviamente ovviamente le mie posizioni sono ben note sono le stesse dei colleghi ma anche la sua stessa posizione siamo sempre stati a favore dei ristoratori dei commercianti e le attività produttive ancora una volta questa amministrazione attiva ha perso un'occasione rimane sorda davanti alle legittime istanze che arrivano dal territorio quindi anche io annuncio che domani Fratelli d'Italia in aula farà valere le ragioni che sono poi quelle della cittadinanza tutta in merito alla ZTL grazie che succede? non sento più nessuno Enza? mi sentite? ci siamo noi ci siamo mi sentite? sì sì va bene va bene consigliere Scarpinato dottore Palazzolo diamo lettura al verbale per l'attrovazione sì collega Amato per favore se può procedere sì sì procedo verbale numero 705 del 3 agosto 2020 il vicepresidente Anello alle ore 10 e 15 apre la seduta in modalità telematica in seconda convocazione con la presenza dei consiglieri Cusumano e Scarpinato la registrazione della stessa sarà disponibile il giorno successivo alla seduta ai seguenti link argomenti da trattare programmazione degli incontri vari ed eventuali lettura d'approvazione del verbale della seduta il presidente Anello chiede al segretario la programmazione degli incontri della settimana il segretario elenca gli incontri il presidente Anello chiede ai consiglieri se ci sono comunicazioni e dà la parola al consigliere Scarpinato il consigliere Scarpinato ritiene importante focalizzare un punto importante relativo al tavolo dei ristoratori per cercare di migliorare un settore in crisi a causa della pandemia la commissione ha fatto un lavoro eccellente si sofferma sul pagamento dei tributi e del lavoro che sta facendo la prima commissione assume la presidenza il presidente Zacco consigliere Scarpinato continua a relazionare riassumendo il presidente quanto detto riferisce di avere letto che il sindaco ha dichiarato che ridurrà i tributi anche in vista delle risorse economiche che arriveranno dallo Stato e dalla Regione chiede di invitare il ragioniere generale prima dell'audizione di venerdì prossimo con i ristoratori al fine di farsi notiziare per le iniziative che l'amministrazione comunale sta ponendo l'essere per dare delle informazioni certe ritiene che sia necessario convocare il presidente dell'AMAT per discutere sul piano industriale e sul piano di risanamento per affrontare successivamente il problema politicamente non piano industriale ma è contratto di servizio sì sì lo dobbiamo correggere il presidente chiede al segretario di dare seguito alle richieste del consigliere Scarpinato chiede inoltre al segretario di riepilogare le audizioni programmate per poter organizzare i lavori di commissione il segretario procede ad elencare gli incontri il consigliere Scarpinato ringrazia il personale amministrativo della commissione per il buon lavoro svolto contribuisce con l'organizzazione dei lavori si apre un dibattito a cui interviene il consigliere Cusumano che non è d'accordo con il consigliere Scarpinato sul suggerimento dato di inserire oltre all'oggetto dell'incontro vari ed eventuali il consigliere Scarpinato chiede di inserire negli argomenti da trattare il tema dei mercati storici il presidente Zacco risponde che già gli inviti sono programmati chiede che i capigruppo debbano chiedere prelievo del regolamento sui mercati storici il vicepresidente Danello riferisce che faranno un documento ufficiale dove oltre a chiedere la sospensione della ZTL che ritiene sia una scelta non opportuna dove oltre a chiedere la sospensione della ZTL che ritiene sia una scelta non opportuna si farà una richiesta di discussione sulle pedonalizzazioni per capire cosa ha deciso l'assessore competente chiede di capire i criteri la tempistica e non comprende perché continuare con le pedonalizzazioni temporane e sperimentali il presidente Zacco crede sia opportuno di dare mandato all'amministrazione attiva per poter pedonalizzare fino ad ottobre quello che è pedonalizzabile per aiutare le attività e poi con calma organizzare le pedonalizzazioni definitive si apre un dibattito il consigliere Cusumano ricorda che non ha votato favorevolmente sull'attivazione della ZTL quindi non capisce come mai si debba modificare adesso con la pedonalizzazione per favorire i commercianti e poi essere favorevole alla ZTL ed invita ad un dibattito serio sull'argomento crede che nel momento che ci sarà una mozione rimarrà coerente con quanto votato precedentemente anche perché sia ancora stato di emergenza fino ad ottobre Presidente Zacco precisa che ha parlato di pedonalizzazione non di ZTL perché rispetta le decisioni che si prenderanno oggi pomeriggio condivide comunque il ragionamento del consigliere Cusumano ritiene che si debba portare avanti la pedonalizzazione fino ad ottobre per favorire le attività il vicepresidente che si prenderanno che si prenderanno scusa Enza che il presidente Zacco dice le riunioni che si prenderanno oggi pomeriggio all'interno del suo partito non si capisce dove aggiungiamo vicepresidente Anello precisa e ribadisce che a fianco dei commercianti fino a quando ci sarà lo stato di emergenza la ZTL deve rimanere sospesa così come è deciso un consiglio comunale consigliere Scartinato precisa che le sue posizioni sono a favore dei commercianti e l'amministrazione attiva rimane ancora sorda alle richieste dei cittadini ed è contrario alla riattivazione della ZTL il presidente Zacco chiede al segretario di leggere il verbale della seduta si procede con la lettura del verbale a voi per l'approvazione allora Anello favorevole Cusumano favorevole Gelarda è sempre assente Scarpinato Scarpinato favorevole Zacco favorevole approvato all'unanimità dei presenti grazie a questo punto chiudiamo la seduta e che ora è dottore Palazzolo sono le 10 le 10 e 56 va bene grazie a tutti buona giornata e buon lavoro la seduta è chiusa buona giornata a tutti buon lavoro a tutti buongiorno interrompo la registrazione